Ciao a tutti, sono Schabieri Riondo e sono qui per presentarvi questa Gibson Les Paul Special Tribute P90 introdotta sul mercato da poco tempo. Si tratta di un tributo allo strumento prodotto tra il 1955 e il 1958 che si differenziava dalla Les Paul Standard per i segnatasti appunto e soprattutto l'introduzione dei magneti P90 single coil dal suono davvero unico. Qui la ritroviamo nella finitura worn white, bianco usato. Il corpo è in mogano, il manico in acero e la tastiera è in palissandro. Strumento davvero versatile, lo sentiamo subito. Il corpo è in palissario Il corpo è in palissario